Parliamo adesso dell'articolazione lombosacrale e dell'articolazione sacro-coccigia e dei movimenti che quindi la colonna vertebrale compie. Ora, l'articolazione lombosacrale è l'articolazione tra la quinta vertebra lombare e il sacro e in particolare tra la faccia intervertebrale inferiore della quinta vertebra lombare e la superficie articolare ovalare della base del sacro che poi corrisponde alla faccia intervertebrale superiore della prima vertebra sacrale. Tra quinta vertebra lombare e sacro si forma appunto il promontorio, una sinfisi, i legamenti di rinforzo sono gli stessi, quindi longitudinale anteriore posteriore e poi tutti i legamenti a distanza, gli stessi del resto della colonna vertebrale, si aggiunge un legamento tra i processi costiformi della quinta vertebra lombare e quindi la cresta eliaca, il legamento ileolombare che vediamo qui. Quinta vertebra lombare, cresta eliaca. Ora, e vabbè, poi questo legamento ileolombare interessa anche i processi costiformi della quarta vertebra lombare. Ora, per quanto riguarda invece l'articolazione sacro-coccigia, essa è una simfisi, quindi interposizione del disco fibrocartilaginio, tra la faccia articolare dell'apice del sacro e la faccia intervertebrale della prima vertebra coccigia, quindi qui, e abbiamo vari tipi di legamenti di rinforzo. Il legamento sacro-coccigio anteriore, qui, in due parti, che unisce quindi la faccia pelvica del sacro alla faccia anteriore del coccige, poi abbiamo i legamenti sacro-coccigio e i laterali, che appunto uniscono le parti laterali del sacro ai processi trasversi del coccige, anche se sul libro, quindi qui, c'è abbastanza evidente che lo unisce ai processi trasversi, mentre sul libro dice che lo unisce invece ai corni del coccige, che sono però posti qui. ma comunque, diciamo, se dobbiamo stare a quello che dice il libro, appunto, i legamenti sacro-coccigio e i laterali uniscono le parti laterali del sacro ai corni del coccige, diciamo così, e poi abbiamo i legamenti sacro-coccigio quindi il posteriore-superficiale, quelli per tutte e due, e profondo, che uniscono la faccia dorsale del sacro a quella del coccige. Ora, per quanto riguarda i movimenti concessi, allora, i movimenti della colonna vertebrale dipendono dalle relazioni tra i corpi delle vertebre e dei processi articolari delle stesse. dunque, e quindi, sostanzialmente, anche dalla deformazione che può avere il disco fibrocartilaginio per cui, allora, abbiamo movimenti Dicevo, possiamo avere movimenti di flesso estensione, movimenti di inclinazione laterale o di rotazione con gradi diversi a seconda dei segmenti della colonna e movimenti consistenti poi dipendono tra l'altro dalla somma dei movimenti possibili in tutti i segmenti Ora, per il tratto cervicale abbiamo buoni movimenti di flesso estensione, specie nella parte inferiore e anche di inclinazione laterale e anche di rotazione, devo dire che è massima poi a livello dell'articolazione atlantoassiale mediana Poi, per quanto riguarda il tratto toracico, il flesso estensione è scarsa abbiamo una discreta inclinazione laterale, anzi no, una buona inclinazione laterale e una discreta rotazione quindi, buona inclinazione laterale e una discreta rotazione Per quanto riguarda il tratto lombare, abbiamo una buona flesso estensione l'inclinazione laterale è discreta e la rotazione risulta essere piuttosto scarsa Entra nel tratto sacro coccigio, quindi il coccige compie dei piccoli movimenti di flesso estensione che, diciamo, durante il parto possono aiutare a far espellere il feto